Benvenuti su Raya World Channel e oggi apriremo due scatole dell'ABC della merenda e guardate che cosa vi dà in regalo, spasso per il mondo in regalo all'interno un'esclusiva con mina 3D dei topolini parmareggi allora io vorrei trovare quella rara che è Enzini in Italia oppure il Marocco perché Enzini in Italia è rara perché c'è scritto gommina 3D e qua abbiamo già trovato una gommina e questa qua è l'Hawai tutti hanno l'Hawai, proprio tutti l'ho aperta stamattina ora apriamo il primo pacchetto dell'ABC della merenda che bel rumore che fa allora vediamo forse è il Marocco dai, dai come si fa ad aprire? ecco così ragazzi ho preso la forbice perché non riuscivo ad aprirla ok, ora lo apriamo con la forbice spero di non tagliare la gomma perché se tipo c'è dentro il Marocco per favore non voglio che si tagli vediamo ecco non è il Marocco ma è un paese è la Russia che bei capelli che è guardate qua la Russia e l'Hawai allora apro per vedere chi si può trovare solo per vedere allora c'è da trovare Emiliano che va in Canada Germania e Texas poi c'è poi c'è Ersila mi sa che si chiama così scusate ragazzi volevo dire Ersilia allora c'è Ersilia che va in Olanda, Hawaii e India poi c'è Enzino che va in Groenlandia ah, ho sbagliato, pensavo che era Russia Marocco e Peru ok, ora apriamo il secondo pacchetto timore a vecchio ecco qua ok, il prossimo pacchetto è questo ecco qua ok una, due e tre mi prego il Marocco e l'Italia forse il Marocco forse no è l'Olanda è Ersilia in Olanda eccole qua le gomme che bel cappello che ha Ersilia allora me ne manca solo una di Ersilia ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto mettete like su e iscrivetevi al canale qua sotto ciao 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 ciao